Purtroppo il passato ci ha detto il contrario, cioè che sono rimaste solo parole vuote, promesse mai mantenute Però ve lo ripeto, io oggi ho visto Andrea Aurentis cambiato, diverso, forse in positivo Poi padre tempo ci dirà se questa cosa è vera oppure no Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale Io sono Dario Detto e il Dario On e oggi in questo giovedì 12 settembre siamo riuniti qui per commentare quello che è successo oggi Perché ragazzi oggi c'è stata una presentazione da parte del Napoli, c'è stata la presentazione di Sorgesano come nuovo sponsor del Napoli E durante la presentazione della Aurentis ha rilasciato delle dichiarazioni, ha fatto un discorso su cui voglio un attimo soffermarmi Perché secondo me ci sono delle cose da dire, da commentare, da analizzare Detto questo cominciamo subito e partiamo con Sorgesana Oggi c'è stata la presentazione, una presentazione che in realtà non era una sorpresa Perché nelle ultime ore in realtà si era sparsa un po' questa voce sui social di Sorgesano, nuovo sponsor Quindi non è stata proprio una sorpresa incredibile Comunque oggi abbiamo avuto l'ufficialità Sorgesana sarà un nuovo sponsor del Napoli e sarà uno sponsor che vedremo sul retro della maglia Più precisamente sotto il numero di maglia Eccola qui ragazzi A me esteticamente piace molto così C'era il pericolo tra virgolette, perché per me era un pericolo Di vedere Sorgesana con la patacca blu sullo sfondo della maglia azzurra Stile Lete però col colore blu invece che rosso Invece alla fine si è optato per questa scelta Cioè il nome Sorgesana direttamente sull'azzurro della maglia E a me così piace tantissimo Per me esteticamente promosso E piccola parentesi Secondo me non è un caso che abbiano usato Lukaku come modello Tra virgolette, perché questa è una cosa che mi sono dimenticato di dire Nel video dello Scopriamo su Lukaku Il buon Romelu ha una cosa come il doppio dei follower su Instagram rispetto al Napoli E quindi secondo me il Napoli l'ho appreso anche per una questione di marketing Una questione anche di immagine Comunque vai a prendere un giocatore che è conosciuto Lui è anche mi pare partner con Adidas Quindi è un giocatore comunque che ti può dare una copertura mondiale importante E quindi secondo me è stato molto azzeccato fare questa presentazione con Lukaku Che appunto ha questa copertura che è il doppio rispetto a quella del Napoli Quindi c'è stata questa presentazione di Sorgesana Marchio che in realtà collabora con Napoli da molto tempo Perché Sorgesana è sempre stato un brand che ha collaborato con Napoli Però fino a qualche anno fa era Lete Diciamo l'acqua ufficiale del Napoli Da quando poi è finita la partner con Lete si è passati a Sorgesana Quindi chiusa la parentesi Sorgesana Adesso andiamo a commentare un po' quello che ha detto De Laurentiis Ok eccoci qua ragazzi Questa è un'immagine che ho voluto mettere E che l'ho messa per un motivo preciso Che però vi dirò dopo Allora c'è tutto un preambolo iniziale Che possiamo anche tranquillamente evitare Questa presentazione è stata anche l'occasione per ricordare i 20 anni di De Laurentiis Al timone del Napoli C'è stato questo video riassuntivo dei 20 anni Che abbiamo visto anche qualche giorno fa sui social del Napoli Finito quel video è cominciato un discorso di De Laurentiis Che poi è stato il discorso che ha chiuso la presentazione Apre questo discorso facendo un bilancio Su questi primi 20 anni E dice bilancio ultra positivo Napoli me l'avevano descritta come una situazione ingovernabile Credo che il calcio a Napoli con la mia presidenza Abbia dimostrato che si può e si deve lavorare E adesso parte il discorso Allora si è sempre detto che Napoli è un club di passaggio per i calciatori Falso Perché oggi il Napoli non è più soltanto un club che lancia nuovi campioni Ma anche un loro punto di arrivo Punto di arrivo Sì Ma per un certo tipo di calciatori con uno certo status Perché ragazzi noi non dobbiamo prenderci in giro Noi non possiamo metterci sullo stesso piano di Real Madrid Di Barcellona Di Bayern Monaco Di Manchester City Del Manchester United Non so se in futuro riusciremo ad arrivarci Però sicuramente oggi non siamo a quel livello Quindi giocatori che hanno uno status importante Giocatori che possono diventare dei fuori classe Tipo Kvara Non possiamo dire per esempio che Kvara considera il Napoli come un punto di arrivo Perché non è così Magari giocatori come Di Lorenzo Ecco con quel tipo di status diverso dal campione che può diventare un fuori classe assoluto Per certi tipi di calciatori possiamo dire che il Napoli è un punto di arrivo Per altri Quindi per giocatori con uno status di primissimo livello purtroppo Non possiamo parlare di Napoli come meta Campioni affermati vogliono venire a giocare nel Napoli Uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli Cioè Conte Diciamo anche che Conte era a passeggio Io non voglio dire che ha scelto Napoli perché era l'unica meta rimasta Però sicuramente l'ha scelta anche per rimettersi in careggiata Anche per una rivincita Perché io non so se in altre situazioni Conte sarebbe arrivato Dico la sincera verità Il Napoli investe oltre 150 milioni di euro nel mercato estivo Poi leggo da molte parti De Laurenti si è impazzito Ha tirato tutti questi soldi No, non è impazzito Sicuramente si è fatto dei calcoli Io sono convinto che nei suoi calcoli c'era anche vendere Osiman A una cifra importante per rientrarci Poi ricordiamoci sempre 150 milioni sì Ma tu quest'anno li metti a bilancio una parte Perché ci sono gli ammortamenti Però è oggettivo che dei soldi importanti sono stati spesi E io sono contento che sia stato fatto Nonostante Osiman non sia stato ceduto Alla cifra che voleva De Laurentiis Ripartire da zero significa anche rifondare E rifondare significa anche investire Questo è stato possibile grazie a un modello di sostenibilità E riqualificazione portata avanti dal 2004 ad oggi E questo deve essere la base anche per i futuri anni Perché la sostenibilità a mio avviso deve essere proprio la prima cosa importante Perché noi alle spalle non abbiamo nessuno E quindi se portiamo avanti un modello diverso Dalla sostenibilità ci accappottiamo In tempo zero Poi bisogna dire che anche un calcio che non rispetta le regole È falsa la competizione Quindi qua attacco al sistema Noi invece abbiamo dimostrato che un'altra strada è possibile E abbiamo vinto lo scudetto Restando fedeli al nostro modello e ai nostri valori Adesso inizia la seconda fase Attenzione perché avviene il bello Seconda fase Quella di spostare il focus anche su investimenti Che consacrino definitivamente l'azienda Napoli Il calcio Napoli deve essere consacrato nella sua ulteriore indipendenza In primo luogo stiamo procedendo ad una riorganizzazione aziendale Che vede il Napoli da tre anni strutturarsi come un club più europeo Più implementato in due aree principali Il comparto sportivo e quello aziendale Con competenze specifiche Dall'interazione fra queste due aree dovranno continuare i successi del Napoli al futuro Il secondo elemento fondamentale di crescita È rappresentato dalle infrastrutture Come sapete siamo al momento attivi su due progetti fondamentali Il primo progetto è il centro sportivo Che servirà a dare una casa unica a prima squadra e settore giovanile Così da poter lavorare sul territorio Come non abbiamo potuto fare nella prima fase della nostra gestione Quindi qua valorizzazione della primavera Sfruttando il territorio locale Benissimo Qui abbiamo manifestato la nostra volontà al comune Su un'area già individuata e che necessita di bonifica Che il Napoli si offre di effettuare a proprie spese Senza gravare sui cittadini Che io sappia l'unica area di bonifica finora citata è quella di Bagnoli Non so se si sta riferendo sempre a Bagnoli Ma penso di sì Però ha detto una cosa importante Che io ricordo che prima non era stata mai detta Cioè che il Napoli è disposto a pagare a sue spese questa bonifica Pur di iniziare questo progetto e costruire il centro sportivo Benissimo Benissimo Bravo Il nuovo centro sportivo permetterà un investimento importante anche nel vivaio Per aiutare a far crescere i campioni di domani Secondo elemento L'acquisto e il restyling del Maradona Abbiamo creato un gruppo di lavoro interno al club Già dato l'incarico a uno studio di architettura Per pianificare la riqualificazione totale dello stadio e delle aree circostanti L'obiettivo non è solo quello di poter lasciare in eredità in Napoletania Una struttura moderna e funzionale Ma anche poter offrire un'esperienza unica tutti i giorni con aree commerciali e di ristorazione Il museo è un'area interattiva e molto altro Il tutto ovviamente in attesa del via libera da parte del comune Quindi qui alla vendita dello stadio Quindi qui diciamo che nessuna novità rispetto al recente passato Ma su questo siamo ottimisti che il comune avrà la lungimiranza di liberarsi di un costo E regalare alla città un'opera moderna anche in vista degli europei del 2032 Questo è un punto importante perché praticamente De Laurentiis ha fatto capire Che come quinto stadio italiano per l'europeo 2032 Ci deve essere Napoli Ok? Quindi da questo discorso io capisco che le strade sono due O il comune vende il Maradona a De Laurentiis E quindi poi si fanno tutte le aree circostanti Oppure non mi date lo stadio Me lo vado a costruire io La cosa però importante che ha detto è che tutto va fatto entro il 2032 Perché poi entro il 2032 devi presentare lo stadio per l'europeo E ora qui sono andato a fare un po' una ricerca Per quanto riguarda lo stadio della Juve Diciamo che il progetto dello stadio era stato approvato nel 2008 Nel marzo del 2008 Nel novembre del 2008 sono iniziate le demolizioni del vecchio stadio Il delle Alpi La costruzione dello stadio ha avuto inizio il 30 giugno 2009 E si è conclusa a settembre 2011 L'inaugurazione è avvenuta l'8 settembre 2011 Quindi nel complesso ragazzi La Juve tra presentazione del progetto Approvazione, demolizione del vecchio stadio E costruzione del nuovo Ci ha impiegato in totale quasi tre anni Ok? Marzo 2008, settembre 2011 Quasi tre anni Quindi ragazzi se vogliamo prendere come metro di paragone Lo stadio della Juve Ci vogliono all'incirca tre anni Facciamo caso che tu lo stadio lo inauguri nel 2031 Ok? Per stare tranquilli Per non arrivare troppo sotto sotto con la data dell'europeo Il tutto deve iniziare quantomeno nel 2027 Noi in questo momento siamo a settembre 2024 Quindi questa storia del Maradona Si deve risolvere Entro due anni e mezzo Ok? Cioè il tempo è poco Se invece il Maradona te lo danno La storia è diversa Perché lì l'impianto già ce l'hai Devi soltanto ristrutturarlo Ci vuole meno tempo secondo me Però il riassunto di tutto questo È che comunque i tempi non sono ampissimi Arriviamo ora al terzo elemento Che è quello del processo di ulteriore internazionalizzazione del club Il Napoli ha una base di potenziali tifosi molto alta E noi ci siamo strutturati per poterlo attivare entro breve tempo Qui abbiamo lanciato Stiamo per lanciare nuovi progetti chiave di connessione Con la nostra fanbase globale Davanti a noi vedo un futuro ricco di sfide Di nuove opportunità da accogliere nel breve termine Avremo l'incredibile vetrina del nostro centenario E siamo pronti a stupirvi con effetti speciali Degni dei nostri migliori film Anche se sono il presidente del Napoli da vent'anni Per quanto mi riguarda lo spettacolo è appena cominciato Posso promettervi che il Napoli Fin quando sarà gestito da me e dalla mia famiglia Non indietreggerà mai al cospetto di comportamenti ostili E predatori da parte di interessi privati Allora ragazzi Praticamente tutto questo discorso che vi ho fatto finora È esattamente quello che io avevo chiesto qualche giorno fa Nel video quello là dove il titolo era Caro ADL Ti chiedo solo questo nei prossimi vent'anni Cioè ha detto esattamente quello che io ho chiesto Due giorni fa nel video Cioè valorizzare la primavera Sfruttando anche il territorio locale Cioè per farvi capire Ragazzi una piccola parentesi C'è l'Empoli Che ha gli scout in campagna E si prende i giovani talenti dei club in campagna E non lo fa il Napoli Non è possibile Quindi valorizzazione dei giovani Nella primavera Tramite il territorio Costruire il centro sportivo come casa Sia per la prima squadra che per la primavera Lo stadio Con annesso aree e interessi Io so i centri commerciali Il museo Non la butto lì Fa i matrimoni dentro il Maradona Come fa il Barcellona col Camp Nou Per esempio no? Un'altra idea Per esempio sullo stadio Questa forse a qualcuno non piacerà Però per esempio Accostare vicino al nome uno sponsor Per esempio il Camp Nou del Barcellona Si chiama Spotify Camp Nou E lo Spotify ti paga una barca di soldi Per mettere il suo nome vicino allo stadio Fa parte di quelle cose che ti può aiutare con gli incassi Ok? Ci sono tante cose che potresti fare sullo stadio Però il senso di tutto questo discorso È che De Laurentiis ha detto esattamente Quello che io spero che faccia nei prossimi vent'anni Cioè adesso il Napoli deve fare il passo in avanti Sulle infrastrutture E poi la cosa importante È continuare il processo di internazionalizzazione del club Una cosa secondo me che potrebbe essere fatta È quella che fa la Juve La Juve nelle cose positive Va seguita e va emulata La Juventus ha creato il Creator Lab Cioè questo mondo dove Prende i creator più importanti Diciamo del mondo Per fare delle collaborazioni E quindi in questo modo tu aumenti la fanbase Aumenti i follower sui social E quindi potenzialmente sono nuovi tifosi Che tu ti vai a prendere in giro per il mondo Ok? A me fa piacere che sia stato fatto questo discorso Perché è esattamente quello che io avevo chiesto Ora qualcuno dirà Eh ma sono sempre stesse cose che va dicendo da mesi, da anni Non ha detto niente di nuovo Fa sempre queste promesse che sono vent'anni che non mantiene Posso essere d'accordo con queste considerazioni È vero perché della Rentes in vent'anni ha detto tante Ha fatto tante promesse sullo stadio e il centro sportivo Ma non le aveva mai fatti Però voglio dire una cosa E mi collego alla foto Io mi sono seguito l'evento in diretta Quindi il discorso che ho letto prima L'ho seguito in diretta Della Rentes chiude questo discorso dicendo una cosa importante Cioè da parte mia c'è sempre la volontà di costruire Questo tutela sia dei calciatori Che spesso vengono intrappolati in situazioni che ledono in primis loro stessi Quindi sta parlando dei procuratori Soprattutto dei nostri tifosi sparsi in tutto il mondo Il nostro più grande orgoglio è stato quello di vincere E rispettando le regole e le persone Continueremo sempre a competere con questi principi 20 anni fa dissi che il mio primo obiettivo Era quello di rilanciare la città di Napoli Anche attraverso il calcio Oggi Napoli ha riconquistato un'attenzione globale Anche grazie al nostro supporto E in merito a questo voglio dire una cosa molto veloce Ragazzi il murales di Maradona È tipo L'attrazione turistica più seguita Diciamo più vista dai turisti In questo momento Dobbiamo sempre ricordarci dello scudetto E lo scudetto ha dato una spinta importantissima Al turismo di Napoli Napoli ha avuto un boom turistico incredibile Quindi è vero qua quando De Laurentiis dice Che il calcio Napoli ha rilanciato anche la città Lui comunque tutto questo discorso Lui lo fa con le lacrime agli occhi E con una voce rotta dall'emozione Cioè io ho visto in questo discorso Ho visto un De Laurentiis Diverso Diverso Da quello che io conosco Cioè un De Laurentiis comunque che umanamente lo vedo Lo vedo più coinvolto Non so come spiegavolo Però io ho avuto questa sensazione Cioè io sto vedendo un De Laurentiis Che sta cambiando in positivo Non lo so Magari mi sto illudendo Starò dicendo una stronzata Può essere tranquillamente Però io quando ho sentito questo discorso E quando ho visto De Laurentiis emozionarsi Non lo so Io dentro di me ho detto De Laurentiis sta cambiando Poi ovvio Cioè tutti questi bei discorsi Vanno confermati poi con i fatti Dalle parole bisogna passare i fatti E questo è la base Però ve lo ripeto Io sto vedendo un De Laurentiis Umanamente Che sta migliorando Magari sarà la vecchiaia Non lo so Però io lo sto vedendo diverso Poi ripeto Avrò detto una cazzata Mi sarò illuso Pazienza Io spero che il discorso di oggi Nel prossimo futuro Venga confermato E venga applicato nel pratico Con i fatti Quindi facciamo il centro sportivo Facciamo lo stadio entro il 2032 O comprati il Maradona Non lo so Vedi tu Io penso che lui voglia comprarsi il Maradona E fare il centro sportivo a Bagnoli Perché logisticamente sono vicini Bagnoli e fuori grotta Io penso che voglia fare così Facciamo il vivaio Facciamo ragazzi In 20 anni è uscito fuori solo in signe Io questo lo continuerò a ribadire Fino alla noia Valorizziamo i giovani Perché quella è un'altra fonte importante Che ti può portare a degli incassi Purtroppo il passato Ci ha detto il contrario Cioè che sono rimaste solo parole vuote Promesse mai mantenute Però ve lo ripeto Io oggi ho visto Un De Laurentiis Cambiato Diverso Forse in positivo Poi padre tempo Ci dirà Se questa cosa è vera oppure no E quindi ragazzi Il video finisce qui Fatemi sapere un po' la vostra Nei commenti Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Mi raccomando Che è totalmente gratis E attivate la campanella Stimo tutti quelli Che sono arrivati qui Fino alla fine Sentendosi tutto il video Forza Napoli sempre Noi ci vediamo domani Con la conferenza di Conte Pre Cagliari Napoli E niente Buon giovedì a tutti Ci vediamo domani Ciao 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 Ciao